Il Rodio in gioielleria, caratteristiche, utilizzi e simbolismo associato. Il mondo della gioielleria è affascinante e vasto, ricco di materiali pregiati e affascinanti che conferiscono un tocco di bellezza e eleganza a ogni creazione. Tra questi materiali, il Rodio si distingue per le sue caratteristiche uniche, le sue varianti e i suoi molteplici utilizzi nella creazione di gioielli. Oltre al suo ruolo estetico, il Rodio è anche associato a un simbolismo profondo e possiede un potere intrinseco nella cristalloterapia. Esaminiamo dunque da vicino questa affascinante e versatile sostanza. Il Rodio è un metallo del gruppo del platino, appartenente alla famiglia dei metalli di transizione. È estremamente raro e prezioso, più costoso dell'oro e dell'argento. È noto per la sua incredibile resistenza alla corrosione e all'ossidazione, rendendolo un'opzione ideale per rivestire gioielli in metallo bianco, come l'argento e il platino. Il Rodio è estremamente duro, con un grado di durezza simile a quello del diamante, e la sua lucentezza è altamente riflettente. Nella gioielleria, il Rodio viene comunemente utilizzato per il placcaggio dei gioielli in argento e in leghe di oro bianco. Questo rivestimento conferisce una finitura liscia e lucida ai pezzi, migliorando la loro resistenza ai graffi e all'usura. Inoltre, il Rodio crea una barriera protettiva tra il metallo sottostante e la pelle, riducendo il rischio di reazioni allergiche. Esistono diverse varianti del Rodio che vengono utilizzate in gioielleria. Il Rodio bianco, ad esempio, è il tipo più comune e viene utilizzato per placcare l'argento e l'oro bianco. Esso conferisce un colore brillante e bianco ai gioielli, fornendo un aspetto moderno e raffinato. Altre varianti includono il Rodio nero, che crea un effetto scuro e affascinante, e il Rodio rosa, che conferisce una sfumatura delicata e romantica ai gioielli. Oltre alle sue proprietà estetiche, il Rodio possiede anche un significato simbolico profondo. Esso rappresenta la purezza e la perfezione, simboleggiando l'energia celeste e la luce divina. Il suo colore bianco e brillante è associato alla luna, evocando una sensazione di mistero e fascino. Inoltre, il Rodio è anche associato all'armonia e alla protezione, fungendo da scudo contro le energie negative. Oltre al suo utilizzo in gioielleria, il Rodio è impiegato anche nella cristalloterapia, una pratica che sfrutta le proprietà energetiche delle pietre e dei cristalli per favorire il benessere fisico, mentale ed emotivo. In questo contesto, il Rodio è considerato una pietra di equilibrio e armonia. Si ritiene che possa aiutare a purificare l'aura, promuovere la guarigione e favorire uno stato di calma e tranquillità interiore. Il Rodio è spesso utilizzato per stimolare il chakra della corona, che è il punto energetico situato nella parte superiore della testa e associato alla consapevolezza spirituale e all'illuminazione. È importante notare che la cristalloterapia è una pratica alternativa e non è riconosciuta come una forma di cura medica tradizionale. Tuttavia, molte persone credono nel potere dei cristalli e li utilizzano come strumenti per favorire il benessere e l'equilibrio personale. In conclusione, il Rodio è un metallo prezioso e versatile utilizzato nella gioielleria per il suo aspetto brillante. La resistenza alla corrosione e la capacità di conferire una finitura liscia e lucente ai gioielli. Oltre ai suoi utilizzi pratici, il Rodio è associato a un simbolismo profondo, rappresentando la purezza, l'armonia e la protezione. Nella cristalloterapia, il Rodio viene utilizzato per promuovere l'equilibrio e la guarigione energetica. Quindi, se desideri indossare gioielli che non solo abbiano un aspetto straordinario, ma che abbiano anche un significato profondo, il Rodio potrebbe essere la scelta perfetta.